Con Antonin finalmente in campo, peccato per in un momento difficile la partita in cui avete provato con le unghie e con i denti a riprenderla ma l'Inter con questa superta numerica non vi ha lasciato troppo spazio. Sì, era troppo difficile tutto secondo tempo perché l'Inter ha un grande difesa con un grande portiere, tre difensori centrali sono tutti e tre bravi. Poi per noi non era tanto spazio anche per giocare perché era difficile se giochiamo senza un giocatore così lungo tempo, non è facile anche perché poi perdiamo tanta forza e non è facile. Nonostante questo però avete tenuto bene il campo, alla fine l'Inter è uscita solo con quel gol che di fatto ha deciso la contesa. C'è un po' di rammarico per come è andata la partita perché forse 11 contro 11 si poteva portare via qualcosa. Sì certo ma noi non siamo contenti perché poi il risultato se perdiamo 1-0 o 3-0 abbiamo zero punti. Per me non è importante così perché tutti siamo venuti qui per fare punti, per fare un risultato importante per noi, per portare qualcosa a Udine. Così siamo senza punti e posso dire solo perché mi dispiace per questa partita perché era troppo difficile. Se vogliamo trovare un aspetto positivo il tuo ritorno in campo finalmente dopo tanto tempo qui a San Siro adesso c'è una nuova pagina della carriera per Antoine Balak. Sì sì spero che sì era bello di nuovo giocare con questa Amalia con questo stadio è bellissimo ma sono più le cose che abbiamo perso e sento che per la squadra più è per me importante. Prima è per me squadra e così voglio dire di nuovo mi dispiace. Prima è per me squadra e così voglio dire di nuovo mi dispiace.